I dati statistici sono importanti per ogni proiezione che si deve fare sia in termini di vendita che in termini di strategie di sviluppo per le nostre aziende. La sostenibilità è una cosa per noi molto importante, rientra perfettamente in quello che sono i valori della nostra azienda, non a caso in questa manifestazione noi stiamo spingendo molto quello che sono i nostri prodotti sostenibili, sostenibilità intesa come prodotto, sostenibilità intesa come sostenibilità sociale perché anche l'aspetto di sostenibilità sociale è un valore molto importante per le aziende e dovrebbe essere sempre più valorizzato e supportato quindi anche con dei dati, con delle tabelle che ci possono anche dare le tendenze nazionali almeno di come stanno andando questi valori che sono importanti per noi. L'aggiornamento dei dati è molto importante perché purtroppo ci troviamo spesso e volentieri a lavorare su dei dati statistici che sono abbastanza datati, a volte anche oltre o più di un anno vecchi rispetto al momento in cui si stanno facendo le valutazioni. Cessimento di riprese lo conosco, non ho ancora avuto molto modo di approfondirne i contenuti ma mi riprometto di farlo al più presto.